Bentornati, allora oggi parliamo di quella parte del concerto che riguarda la ritualità e il comportamento del pubblico, il galateo potremmo dirlo in una certa maniera. Vi do quindi qualche consiglio che riguarda la partecipazione a concerti di musica classica o di rappresentazioni d'opera che credo potrebbe tornarvi utile soprattutto se non siete dei frequentatori abituali di teatri e auditorium. Allora partiamo dall'abbigliamento, fino a qualche anno fa e per qualche anno fa intendo 30-40 anni fa sarebbe stato impensabile o comunque sarebbe stato disdicevole presentarsi a un concerto vestiti in maniera superficiale. Oggi devo dire che il tasso di formalità dei teatri si è abbassato moltissimo e quindi di per sé non c'è nulla di male ad andare a un concerto con dei jeans. Ecco magari evitate di andarci con una felpa da writer o con i jeans strappati o col cavallo basso. In ogni caso per non sapere leggere e scrivere se mettete uno spezzato o che so una camicia, dei pantaloni anche senza la cravatta e una giacca state sicuri che non sarete assolutamente mai fuori posto. Un dolce vita al limite, non volete stare a mettere la camicia, mettete un dolce vita che è anche abbastanza comodo e in qualche maniera la sfangate. Questo ovviamente a meno che non si tratti della prima della scala perché per la prima della scala su un invito c'è proprio scritto black tie o white tie, dipende. Black tie, quindi per black tie si intende lo smoking, quindi la giacca col papillon nero e per white tie si intende il frac per cui le code dietro e con il cravattino bianco. Però generalmente oggi le occasioni di mettere lo smoking sono veramente pochissime, io se lo metto uno o due volte all'anno in occasioni particolarmente formali o particolarmente eleganti è già tanto. Per cui le occasioni di mettere lo smoking sono sempre meno, ma se vi capita l'occasione e non ce l'avete, magari un amico ve lo presta, non perdete e non buttate via quest'occasione di indossarlo, che comunque è una bella esperienza. E se invece si tratta di una prima, ma non della prima della stagione, ad esempio anche in scala della prima di una produzione, ma non della prima appunto quella di Sant'Ambrogio, beh dipende fondamentalmente da dove siete. Per cui in loggione potete andarci anche in jeans, magari in un palco sarebbe più indicato almeno un vestito, ecco non dico lo smoking, che peraltro se metterete non sarà fuori luogo, però almeno un abito, ecco mettete almeno un abito. Dopodiché invece in loggione può essere accettato anche il jeans. Allora, quando entra l'orchestra si applaude, perché è una cosa che io trovo tristissima, vedere i concerti, che l'orchestra entra e nessuno la degna di uno straccio di applauso, come se fosse solo il direttore o il solista, l'unica persona che si esibisce quella sera. È una questione veramente di rispetto e di considerazione. In certi casi la spalla, cioè il primo evelino, può entrare leggermente dopo per prendere un applauso a parte. Questa cosa si fa in realtà sempre meno spesso, in particolare se poi non c'è stato neanche l'applauso per l'orchestra, figuriamoci la mestizia di vedere quest'uomo o questa donna che entra da solo dopo. Però mi raccomando, si applaude all'ingresso dell'orchestra. E quando l'orchestra accorda si sta in silenzio, non fa niente che molte volte l'accordatura... A proposito, avete visto il video sulla accordatura che ho fatto? Se non l'avete visto vi lascio alla fine il link. L'accordatura fa parte del concerto e per accordare bene è necessario una certa dosi di silenzio. Non fa niente che spesso e volentieri l'accordatura vera sia già stata fatta dietro le quinte, quella che si fa in palco sia solo un proformo. È una questione di rispetto nei confronti dell'orchestra. Ovviamente si applaude all'ingresso del direttore, ma questo si fa ormai praticamente sempre. Ecco, mi raccomando, lo dico soprattutto ai direttori giovani, non entrate con le partiture sotto il braccio. Perché è un segno di dilettantismo enorme. Ovviamente nei teatri e nelle istituzioni questa cosa non potrebbe mai succedere, ma magari nei concerti, nei posti meno importanti o nei teatri più piccoli potrebbe accadere. Questa cosa deve dirsi è orrenda. Quindi direttori che entrano con sotto braccio le partiture che devono dirigere. C'è un unico caso in cui questa cosa è tollerata se si tratta di un concorso. E quindi alternandosi tanti direttori sul podio che devono appunto eseguire migrani diversi, ci sta che entrano ed escono con la partitura sotto il braccio. Per l'altro un concorso sarebbe meglio fare a memoria, ma questo è un altro discorso. Mi raccomando, giovani direttori, non entrate con la partitura sotto il braccio perché sembrerete degli scappati di casa. Quindi il direttore entra, dà prima la mano alla spalla, e magari il concertino, cioè al secondo dei primi violini, quello a fianco alla spalla, e si ritiene al primo dei secondi anche. Dopodiché fa l'inchino. L'inchino si fa dopo aver salutato e quindi ringraziato l'orchestra. Giovani direttori, non fate mai l'inchino prima di ringraziare, di dare la mano alla spalla. Se oltre al direttore c'è un solista, solista e direttore entrano insieme. E il solista può dare la mano alla spalla. Nella ritualità e nella consuetudine non è automatico, però sarebbe buona norma che il solista desse la mano alla spalla, esattamente come fa il direttore. La mano va data ovviamente all'inizio, ma soprattutto alla fine del concerto. Quindi per lo stesso principio inverso, quando finisce il concerto, il direttore chiude l'accordo, dà la mano alla spalla e poi si gira e fa l'inchino al pubblico. Sempre in quest'ordine. Mai il contrario. Non si applaude fra i movimenti di una sinfonia. Se avete dei dubbi, guardatevi intorno. Se non siete circondati da gente inesperta, loro lo sanno che non si applaude. Per cui non fatevi prendere l'entusiasmo. Io lo so che sono certi brani, come per esempio il primo movimento del concerto, Previno di Tchaikovsky, che proprio l'applauso te lo tira, te lo tira fuori dalle mani. Ma questa cosa non va fatta. E guardate che non è un discorso semplicemente di formalità o di ritualità o di chissà. C'è una ragione molto pratica. L'applauso disturba la concentrazione di chi suona e o di chi dirige. A maggior ragione se lo sta suonando o dirigendo a memoria. A me è capitato molte volte che se stai per partire, hai finito il movimento, hai in testa l'inizio del secondo, stai dirigendo a memoria e l'applauso ti manda tutto in vacca. Per cui mi raccomando, non si disturba la concentrazione. Se vi è piaciuto tantissimo il primo movimento, avrete tutto il tempo alla fine dell'ultimo movimento, generalmente il terzo o il quarto in altri casi, per spellarvi le mani, anche per il primo. Fine del concerto. Se c'è un solista, come detto, sarebbe buona norma che anche il solista desse la mano alla spalla. Quando c'è un solista, il direttore generalmente esce col solista, dopodiché rientra il solista una o due o tre volte, in base a quante volte è stato chiamato, e il direttore resta fuori. Questa è la classica occasione in cui molte volte il solista suona magari un bis, che è generalmente fatto senza l'orchestra, la classica cosa è un pianista suonerà al pianoforte, un violinista suonerà al violino, un qualcosa per pianoforte solo o per violino solo. Raramente il bis comprende anche l'orchestra. Se invece finisce il concerto e non c'è un solista, quindi c'è solo il direttore, quindi ripeto, mano alla spalla, inchino, e poi se in quella composizione ci sono stati degli assoli particolarmente importanti, si fanno alzare i singoli musicisti, il primo ob, il primo flauto, il primo clarinetto, o chiunque abbia fatto un assolo particolarmente importante. Quindi prima le prime parti, appunto se hanno fatto una parte solistica particolarmente importante, poi si fa alzare tutta l'orchestra. Poi non sarebbe male, cari direttori giovani, fare questa cosa, dopo le applausi, nel pieno delle applausi, sarebbe buona norma che il direttore scendesse dal podio, come a dire che l'applauso che stiamo sentendo non è per lui ma è per l'orchestra. Questa cosa non fa parte della ritualità, qualcuno lo fa, qualcuno lo fa, ma cari giovani direttori è un bel segno di rispetto nei confronti dell'orchestra, che poi alla fine è quella che è suonato. Non dimentichiamoci mai questa cosa, eh? E che se il concerto è andato bene, è perché l'orchestra è suonato bene, e voi avete detto bene, benissimo, però fate in modo che ci sia uno spazio di considerazione solo per l'orchestra, e voi e il vostro ego scendete dal podio. Alla fine il concerto si fischia, si bua, si applaude, ci ho fatto una live apposta su questo argomento, io credo che buona norma sia sempre applaudire se vi è piaciuto, e non applaudire se non vi è piaciuto, anche perché fino a qualche decennio fa si fischiava come segno di non apprezzamento del concerto, ma ormai da tanti anni il fischio è al contrario per un'abitudine americana è segno di apprezzamento, per cui attenzione che si fischiate per manifestare che non avete gradito il concerto, potreste anche ottenere il risultato esattamente opposto. Alla fine, se il concerto non vi è piaciuto, non applaudite. Ecco, a questo proposito, una cosa io trovo terribile, a meno che non abbiate un treno che vi parte, l'ultima metropolitana che poi vi lascia per strada o così via, è bruttissimo che il concerto finisca e voi prendiate e ve ne andiate senza applaudire. Nel senso, non siamo a San Siro che dovete sbrigarvi a correre al parcheggio, altrimenti state bloccati nel traffico di decenni di miliardi di auto, siamo in un teatro, a meno che il concerto non vi sia piaciuto, se il concerto non vi è piaciuto avete tutto il diritto di prendere e andare via senza applaudire. Ma se il concerto vi è piaciuto, andar via, scappar via come cenerentola a mezzanotte e non tributare al direttore, ai solisti, all'orchestra, uno straccio di applauso, io trovo sia veramente da cafoni. Dopo il concerto si vanno a chiedere autografi, foto, selfie, eccetera, eccetera. Sì, ormai è abitudine in valsa. Attenzione per non essere troppo invadenti. Evitate di andare in camerino, a meno che non siate parenti o amici del direttore o del solista, perché nella maggior parte dei casi in camerino rompete le scatole, perché il direttore o il solista si sta cambiando, magari in mutande, magari ha molte altre persone, il direttore artistico del teatro, o appunto parenti o amici, e non è educato passar loro davanti o sottrarre al loro tempo. Se proprio volete un autografo o una foto del direttore o del solista, lo aspettate da uscite artisti. Ce n'è una sola in ogni teatro, anche teatro grande, per cui da lì deve passare. Uno che non arrivi nelle guardie del corpo e venga portato via in elicottero, mediamente dovrà uscire da uscite artisti, per cui abbiate pazienza, uscite, fumate una sigaretta se fumate, prendete un caffè se volete il caffè, e aspettate che il vostro beniamino o la vostra beniamina esca dall'uscita artisti e lì chiederete la foto, il selfie, l'autografo, la dedica sul programma di sala o quello che volete. Dopodiché non dimenticate mai però che il musicista è un essere umano e magari può essere stanco, può avere le scatole girate per i fatti suoi e quindi non è detto che debba essere per forza gentile e disponibile con tutti. Non si tratta di fare i divi ma può darsi che uno abbia in testa altre cose che non firmare il vostro programma di sala e quindi insomma meno che non si tratta di uno o di una che è notorio o notore per avere un cattivo carattere e per non amare queste cose, persone che tra l'altro a me non piacciono perché comunque chiunque si esibisca su un palcoscenico è lì perché c'è qualcuno seduto tra il pubblico altrimenti su un palcoscenico non ci sarebbe nessuno in questa cosa i musicisti non dovrebbero mai dimenticarlo però tenete presente che una serata in cui uno o una non ha voglia di fermarsi a chiacchierare con dei perfetti sconosciuti ci può anche stare. Ultimo concerto importante, le caramelle perché è una questione spesso più di tosse nervosa che non di una patologia alla gola ma chissà perché ai concerti si tossisce. Allora voi sapete che Rubinstein diceva in tutto il mondo la gente quando la tosse va dal dottore. A Vienna vengono i miei concerti. Ecco per cui siccome succede che un po' di tosse nervosa o a volte c'è anche un'altra ragione molto pratica magari c'è un po' di polvere sulle sedie e questa polvere ci va in gola e ci vende a tossire quindi se siamo tra il pubblico portiamoci sempre caramelle per poter dare un po' di sollievo alla nostra tosse ed evitare di cominciare a tossire e oltretutto oltre di soprare il concerto essere, sembrare degli untori di manzoniana memoria. Mi raccomando un'altra cosa importantissimo che sia delle caramelle che non fanno troppo rumore la carta C'è bisogno di tre ore per prendere un confetto, fammi lei come prendere un confetto. Anche qua le tribhe tra un movimento e l'altro o ancora peggio magari un piano sentire uno che scarta la caramella vi assicuro che rompe la concentrazione e non solo la concentrazione Bene, scrivete nei commenti se secondo voi ho dimenticato qualche regola di buona norma o di ritualità del pubblico o di chi si esibisce così poi ci confronteremo magari se ci sono delle cose che mi sono dimenticato e potrebbe anche essere magari ci farò un video successivo però una parte due della ritualità teatro nel frattempo indovinate un po' dovete iscrivervi al canale perché per me è molto importante e se preferite potete iscrivervi senza attivare la campanella potete essere iscritti al canale e non ricevere notifiche però secondo me se vi piacciono i miei contenuti è schiacciata questa campanella ci vediamo al prossimo video non mancate non mancate Grazie a tutti.